Mi chiamo Giuseppe Ganserli e sono un pianista. Da ormai molto tempo affianco al mio insostituibile pianoforte Yamaha C7 dei pianoforti digitali per uso studio, soprattutto nelle ore serali e ahimè anche notturne. Grazie alla lungimiranza di Mariano Fabio, uno dei titolari di Casa Musicale Quinto Fabio e la tenacia di Antonio Campeglia, direttore della rivista Eggio Audio, ho avuto la possibilità di provare uno degli ultimi pianoforti della Yamaha Serie P, il 525, e ne sono veramente rimasto colpito. Il feeling del tasto è la prima caratteristica che io ricerco in un pianoforte digitale, essendo un pianista classico. Ecco perché vorrei condividere con voi questa mia esperienza. Il tasto del P525 si presenta all'interno di legno e invece è ricoperto da avorio ed ebano sintetico. Un'altra cosa poi fondamentale, soprattutto per me, anche per impartire delle lezioni di pianoforte, è la doppia uscita cuffia, perché la doppia uscita cuffia permette appunto di inserire due cuffie, quindi magari una cuffia per il maestro e l'altra per l'allievo, e quindi di fare le lezioni in totale autonomia, senza dare fastidio magari alle persone che sono vicine, magari in una casa. Oltre all'ascolto in cuffia, naturalmente è possibile ascoltare questo fantastico strumento attraverso le sue casse proprietarie. Naturalmente il pianoforte è dotato di un'uscita MIDI, particolarmente utile per coloro che ancora possiedono strumenti che operano esclusivamente con tale protocollo. Un'altra cosa che io ritengo fondamentale è la registrazione direttamente all'interno del pianoforte oppure attraverso la sua porta USB posta sul pannello anteriore. E questo è importantissimo perché chi studia il pianoforte è importante che si ascolti dopo aver fatto la sua performance, oppure anche semplicemente dopo aver studiato il suo brano del momento. Credo proprio che questo 5.25 sarà il mio secondo piano affiancato al mio pianoforte acustico C7. Grazie a tutti.